Al comune di Battipaglia si è parlato del progetto Safe Breed donato dal Rotary Club di Battipaglia all'ente e alla comunità. Ad illustrare il progetto di durata biennale la sindaca cicilia francese, il presidente del Rotary 2018-2019 Giorgio Scala, il presidente eletto per il 2019-2020 Alfonso Truono ed ancora per la Science Square, start-up innovativa che ha sviluppato il progetto di monitoraggio ambientale della città di Battipaglia, Aristide Giuliano. Presidente Scala, da dove parte questa idea progettuale? Ovviamente parte dal momento che la nostra città sta vivendo. Il problema ambientale non lo scopro io a Battipaglia né tanto meno in Rotary. In questo caso il Rotary ha avuto proprio la necessità di valutare il problema ambientale perché come sapete la nostra associazione agisce da sempre con progetti, servizi al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Ora era doveroso quasi intervenire nel tema ambientale. La durata del progetto su carta è biennale, anche se ci siamo già impegnati sul quadriennio. Quindi è una cosa condivisa già con il Presidente che mi seguirà, Alfonso Truono. I dati quindi saranno raccolti sicuramente per il prossimo biennio. L'installazione delle centraline quindi è prevista, speriamo, in tempi brevi. Ne abbiamo già installate tre, tre sono già attive. Da settembre partirà anche l'applicazione mobile per i cittadini. Quindi i cittadini cominceranno a ricepire già i primi dati ufficiali della qualità dell'aria. E' ovvio che il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione oltre che informarla. Quindi intavoleremo workshop, appuntamenti, quindi proprio per la valutazione del dato stesso. La nostra è un monitoraggio della qualità dell'aria, di elevata risoluzione spaziale e temporale. Quindi riusciamo ad installare tante centraline in uno stesso territorio, mappando il territorio, mappando gli inquinanti. Ed un'elevata risoluzione temporale, quindi riusciamo ad inviare in tempo reale i dati ogni tre minuti. Quindi mentre i dati tradizionali vengono resi disponibili anche il giorno dopo, con una media su tutta la giornata precedente, essenzialmente quindi un dato al giorno disponibile il giorno successivo, noi inviamo questi dati ogni tre minuti, quindi una mole di dati incredibile ed in tempo reale. Quindi in real time possiamo dare l'alert oppure la visualizzazione dei dati.